Questo è il mio percorso. Vado verso la meta con tutta l'energia e l'entusiasmo che ho. Incontro persone, condivido esperienze e conoscenze. Preparo il mio bagaglio per essere pronta a fare il salto più importante, quello verso il mio futuro. Per Asmus a Roma, sono contento della mia scelta. Qui è facile fare amici. Incontro ogni giorno ragazzi motivati. E ricevo stimoli sempre nuovi per studiare la connessione tra sport e salute. Il contesto e le relazioni ci permettono di migliorare ogni giorno. A presto. A presto. La performance La performance è il risultato della combinazione esatta di ogni dettaglio. Noi lavoriamo per farlo rendere al meglio. Per questo mi entusiasmo anche per un piccolissimo progresso. Sono per il lavoro di squadra. Dove il risultato è una sensazione esaltante. La salute è la conseguenza di uno stile di vita fatto di buone abitudini. Il corpo va educato all'uso delle energie fisiche e mentali. Bisogna individuare le leve motivazionali. È quello che cerco di trasmettere con il mio lavoro. È quello che ho imparato qui. Grazie a tutti. Grazie a tutti.